Completate le frasi con bene o buono, buona, buoni o buone. Tre secondi per pensare e scegliere l'opzione corretta. Proviamo. Numero uno. Questo ristorante è davvero bene o davvero buono? Buono perché si riferisce a un sostantivo, ristorante. Numero due. Questo nuovo computer funziona proprio bene o proprio buono? Bene perché si riferisce al verbo funzionare, funziona. Numero tre. Questi esercizi sono molto bene o buoni per imparare le regole? Buoni perché si riferisce a esercizi, un sostantivo. Numero quattro. Con passione italiana imparo bene o imparo buono l'italiano? Bene perché si riferisce al verbo imparo.